ricordo il primo lancio col paracadute a pisa eravamo affacciati dal portellone di un c 119 il vagone volante in cielo a 500 600 metri d'altezza prima di buttarci luciano si gira e mi fa gigi e se non si apre un uragano biondo travolgente in campo un vulcano di dinamismo intensità un centrocampista all'olandese nella lazio di tommaso maestrelli campione italia 1974 fuori dal campo una delle anime più forti e riconoscibili di uno spogliatoio spaccato anche fisicamente lui fa parte della fazione di gigi martini e mario frustalupi in fermissima opposizione a quella di pino wilson e giorgio chinaglia e come tutti i calciatori del mondo anche luciano re cecconi a mille soprannomi il più immediato è cecco la contrazione del cognome che nella fantasia del giornalista del corriere della sera franco melli diventa cecco netzer per la somiglianza con gunter netzer sublime fantasista biondissimo della nazionale tedesca il più gratificante è quello che gli ha regalato padre antonio lisandrini il frate francescano che accompagna la squadra e ha celebrato il suo matrimonio con cesarina lo chiama il saggio perché re cecconi è portatore sano di quella follia che scorre lungo la lazio anni 70 come un fiume in piena ma in più ha conosciuto la vita vera calzolaio fruttivendolo elettricista assistente nell'auto officina di suo cugino prima di fare il salto nel calcio dei grandi uno scudetto due presenze nazionale una convocazione pur senza mai scendere in campo ai mondiali 74 la pistola ce l'ha avuta anche lui si intende come quasi tutti in quello spogliatoio in cui si spara un colpo di calibro 38 anche per spegnere la luce senza alzarsi dal letto alzati tu no alzati prima tu no non mi va aspetta boom luce spenta buonanotte domani fai attenzione ai vetri il presidente lanzini ha un conto aperto con l'hotel per i rimborsi di arredi e lampioni spaccati a colpi di arma da fuoco dai giocatori in ritiro poi una sera rececconi ha fatto finta di averne una in tasca per fare uno scherzo forse non è chiaro è tutto confuso anzi non ha proprio senso l'ultima sera di luciano rececconi è un pasticciaccio brutto che a teatro non in via merulana come il romanzo di gadda ma in via francesco saverionitti quartiere fleming una zona molto signorile di roma nord dove abitano calciatori politici giornalisti funzionali pubblici imprenditori la lazio ci respira le giornate iniziandole e finendole al caffè fiocchetti prima e dopo gli allenamenti a tor di quinto qualche giorno a preparare il cappuccino ci puoi trovare persino chinaglia ed è lì che è stata scattata una delle foto di culto della lazio anni 70 giorgio chinaglia capo chino che sta leggendo il giornale e alle sue spalle una scritta sul muro laziali bastardi il 18 gennaio 1977 luciano rececconi è di buon umore non mette piede in campo dal 24 ottobre quando contro il bologna si è fatto male al ginocchio sinistro dopo 20 minuti ma quella mattina le parole del dottor ziaco sono state confortanti la gamba va meglio ancora qualche giorno e tornerà in gruppo anzi ora c'è una bella pausa nazionale ideale per riprendere confidenza col campo e tornare a disposizione dell'allenatore vinisio chissà magari potrà già strappare qualche minuto alla ripresa a cesena il 30 gennaio la stagione della lazio è complessa tagliata dal dolore della scomparsa di tommaso maestrelli malato da tempo che se n'è andato il 2 dicembre genio delle relazioni e della diplomazia era il collante di uno spogliatoio dell'atmosfera vagamente balcanica quell'anno la lotta per lo scudetto è una questione torinese tra juventus e torino ma l'europa è alla portata quella sera rececconi è atteso a cena con la moglie a casa di antonio di marco un amico macellaio nel frattempo spende il martedì pomeriggio a zonzo per le strade del suo quartiere a fare commissioni con i compagni di squadra pietro ghedin e renzo rossi nel tardo pomeriggio fanno un salto dall'amico giorgio fraticcioli titolare di una profumeria in via nitti che quel giorno è piuttosto indaffarato perché oltre al lavoro deve star dietro anche a un regalo per una comunione nel fine settimana che sta arrivando per questo motivo è stato già due volte nella gioielleria di un altro amico bruno tabocchini sempre lì in via nitti la prima volta ha scelto il regalo una coppa d'argento la seconda volta è tornato con la moglie per pagare e ritirare il regalo su cui il gioielliere nel frattempo ha inciso le iniziali del bambino ma fraticcioli si è dimenticato di consigliare a tabocchini due flaconi di deodorante così intorno alle 19 gli telefona ancora per annunciare che sarebbe tornato di lì a poco per la terza volta e notando i tre amici calciatori a zonzo nel suo negozio gli chiede volete venire con me ghedin e rececconi accettano mentre rossi si chiama fuori perché ha altro da sbrigare prima di tornare a casa pochi minuti dopo lo troviamo a comprare un fiasco di vino in una tavola calda di fronte alla gioielleria mentre sta uscendo renzo rossi sente un colpo di pistola che tempi avrà pensato ormai c'è una rapina al giorno la gioielleria di tabocchini pomposamente definita laboratorio d'arte orafa è una bottega un po angusta larga due metri e mezzo lunga due metri e dieci che si trova in via francesco saverionitti 68 alle 19 e 30 tuttavia il negozio è piuttosto affollato nel momento in cui i fraticcioli e i suoi due amici calciatori si avvicinano alla porta dentro ci sono già sei persone tabocchini sua moglie suo figlio leonardo che fa i compiti nel retrobottega il macellaio mario isidori che sta cercando una fascetta per un orologio insieme ai due figli adolescenti e sta anche prendendo un'ordinazione di carne dalla moglie dell'orafo come tutti i gioielleri la roma cupa e violenta negli anni 70 tabocchini non trascorre giornate serene quasi ogni sera il tg dà notizia di una rapina di uno scontro a fuoco di un collega ferito o peggio è un incubo che negli ultimi anni lui ha vissuto addirittura tre volte l'ultima un anno prima all 8 febbraio 76 e ha sparato e ha colpito al torace il rapinatore angelo amatucci così ormai il ferro fa parte dell'abbigliamento e non per spiegare la luce prima di andare a dormire tabocchini gira e lavora con una pistola walter 7 65 nella fondina allacciata ai pantaloni in caso d'emergenza ormai non ci pensa due volte la pistola è senza sicura basta estrarla ed è già pronta a fare fuoco quindi alle 19 e 30 del 18 gennaio 1977 fraticcioli suona la porta vetri della gioielleria che si apre dall'interno con un congegno automatico al momento in cui fraticcioli suona la porta tabocchini si trova sul fondo del negozio ma non è chiaro in che posizione sia né che porzione di spazio esterno veda dalla sua posizione non è chiaro se riconosca solo l'amico profumiere o se si accorge anche degli altri due che sono messi in una posizione un po ambigua se sei un gioielliere della roma degli anni 70 perché è così che fanno i rapinatori si mettono in coda dietro alla gente normale e ne approfittano per entrare e quelli entrano ma tabocchini ha il ferro e lo sguaina subito puntandolo verso ghedin che alza le mani di scatto poi lo punta verso rececconi che ha un'esitazione in più e a quel punto tabocchini spara a bruciapelo all'altezza del petto prima di accasciarsi rececconi riesce solo a pronunciare con un filo di voce queste parole ghedo non ti muovere aspetta l'arrivo dei soccorsi è inutile il proiettile ha raggiunto l'emitorace destro ha fracassato allo sterno e ha tagliato la orta provocando un'emorragia inarrestabile muore nella sala operatoria dell'ospedale san giacomo alle 20.04 meno di un'ora dopo ma che ha fatto urla ghedin e questi sono giocatori della lazio non lo sa gli urla fraticcioli tabocchini a quel punto una specie di crisi di nervi inizia a urlare si rende conto della tragedia in questi ultimi tempi la psicosi di rapina lo rendeva isterico diranno i suoi conoscenti alla stampa leggeva i giornali guardava la tv apprendeva quello che succedeva nelle altre gioiellerie e fremeva l'italia degli anni di piombo della paranoia permanente un paese in cui si può morire in modo balordo in ogni momento come succede al figlio di alberto sordi nel film un borghese piccolo piccolo anno 1977 e perciò ci si arma perché la legittima difesa non è mai eccessiva come fa nino manfredi nel film il giocattolo anno 79 ispirato direttamente dall'episodio di rececconi queste sono le dichiarazioni di tabocchini rilasciate al tg2 poco dopo l'episodio come è stato dentro ha detto nessuno si muove a una rapina quanti colpi un colpo dopo nel cadere di una mano scherzo è uno scherzo ma che si scherza in questa maniera tabocchini viene indagato per eccesso colposo di legittima difesa e al processo il 3 febbraio conferma la versione dello scherzo leggiamola testualmente dal libro del 2016 del giornalista ghicchia paventi aveva un volto bianco e tirato il fraticcioli urtò il vetro con le nocche io feci segno di domandare se i due erano con lui il fraticcioli mi fece un gesto vago che fu da me interpretato inizialmente con una risposta affermativa alla mia domanda apro mentre il profumiere viene verso il banco noto uno dei due quello biondo ha un volto particolarmente bianco e tirato una faccia sconosciuta ma dura tesa con qualcosa di non comune che polarizza la mia attenzione ha un'aria minacciosa con la mano destra nella tasca sollevata verso l'alto e già il giorno dopo tutti i quotidiani si mantengono sulla stessa linea che poi è quella confermata anche da ghidin il secco mi ha detto fuori quello lì si è attrezzato come in un bunker adesso gli facciamo uno scherzo ho sentito che diceva fermi tutti questa è una rapina e l'altro si è girato e teneva la pistola a due mani la puntata su di me ma io istintivamente ho alzato le braccia il secco le manteneva in tasca e quello lì ha cambiato mira e ha sparato ma non ho capito niente dopo un attimo gli ho detto al secco alzati andiamo basta con lo scherzo ma possibile che le cecconi si fosse messo in testa una sciocchezza del genere per esempio gigi martini il suo migliore amico nella lazio ha sempre dubitato non ci fu nessuno scherzo e ghidin non sentire cecconi parlare di questa ricostruzione sono certo al 100 per cento quella sera a pochi metri dalla gioielleria passavano per caso i gemelli massimo e maurizio maestrelli i figli di tommaso che si trovavano da quelle parti perché stavano tornando a casa dopo aver preso ripetizione di latino a casa della loro cugina man mano che ci avvicinavamo il brusio cresceva ci guardammo perplessi e arrivati davanti al negozio infilandoci nella folla capimmo cecco era stato portato fuori e giaceva per terra il capo tenuto su da qualche passante facciamo in tempo a guardarlo in visio e chiedergli cosa fosse successo lui ricambiò con lo sguardo dolce ma non parlò era come stordito loro non hanno visto niente ma hanno una sensazione raccontata da massimo noi non eravamo nella gioielleria ma sono sicuro che cecco non disse nulla né tantomeno questa è una rapina non era nelle sue corde entrò con ghidin mani in tasca e bavero alzato per il freddo ma senza cappello né sciarpa sul viso ghidin fece tempo a tirar fuori le mani vedendo la pistola gioielliere cecco no e il di scansare il colpo fu fatale perché espose il petto al proiettile se fosse stato fermo appare chiaro che la chiave dell'enigma può avercela solo pietro ghidin che però in questi anni ha sempre parlato pochissimo della vicenda soprattutto in pubblico ha avuto una carriera d'allenatore ad alto livello vice di trapattoni sulla panchina della nazionale italiana dal 2000 al 2004 ct della nazionale femminile e della nazionale maltese nominato cavaliere al merito dal presidente della repubblica se lo citato sull'argomento ha sempre glissato ho chiesto di cambiare discorso in una delle rare occasioni in cui non l'ha fatto un'intervista all'unità del 20 febbraio 1994 non ha dissipato granché la nebbia se fossi morto io non avrei saputo perché è la frase più cruda che posso dire per spiegare il mistero di quei tragici secondi ai quali non so dare spiegazione dopo appena 18 giorni bruno tabocchini fu assolto per legittima difesa putativa che vuol dire putativa che può succedere che un individuo creda di essere minacciato mentre il pericolo non sussiste la legge comunque lo tutela nonostante il parere contrario del pm franco marrone la procura di roma non presentò nemmeno ricorso in appello da allora almeno due libri sono stati scritti per tentare di stabilire una seconda verità leggermente diversa rispetto a quella processuale oltre al libro di cui parlavamo di chiappaventi va citato non scherzo il lavoro del giornalista maurizio martucci secondo il quale l'opinione pubblica del tempo fu orientata da una specie di lobby dei gioiellieri con importanti appoggi politici sia a sinistra che a destra in un'epoca in cui i vari gruppi extra parlamentari con la tentazione della lotta armata si autofinanziavano anche attraverso le rapine ai negozi di lusso specialmente le gioiellerie e la categoria era talmente esposta al pericolo di morte che l'ina l'assicurazione di stato si rifiutava di emettere polizze a loro tutela il giorno dopo il corriere della sera che come tutti i quotidiani dell'epoca preferiva schierarsi con la pancia impaurita del paese che chiedeva ad alta voce sicurezza si cimentò in un ritratto di rececconi non molto lusinghiero viveva probabilmente in uno stato di particolare esaltazione per l'imminente ritorno in campo dopo una lunga assenza scrisse il giornale che raccontò di un altro tentativo di scherzo un anno prima al pronto soccorso dell'ospedale san giacomo lo stesso ospedale in cui sarebbe stato portato in vano quella sera era andato a trovare un amico ricoverato poi uscendo entrò nell'ufficio con il bavero alzato e le mani in tasca e intimò ai presenti di alzare le mani gridando fermi tutti a una rapina un attimo di perplessità poi i poliziotti lo riconobbero e tutto finì in una risata per quasi 40 anni fu questo il taglio che tutti i grandi media diedero a quelle episodi infame prima che le cose iniziassero a essere illuminate da una luce diversa dopo 47 anni resistono ancora due domande a cui è difficile dare una risposta due domande di segno opposto la prima perché in una situazione apparentemente così tranquilla tabocchini non si creò problemi a sparare in una gioieglieria molto piccola un vero e proprio buco con ben sei persone dentro con il rischio di generare una sparatoria e mettere in pericolo anche la vita dei suoi familiari la seconda è vero che tabocchini non aveva riconosciuto rececconi ma io non lo conosco rececconi non vado mai allo non mi piace il pallone non ho mai visto non vado mai a vedere le partite secondo altri testimoni era impossibile che non lo conoscesse come si legge anche sui giornali dell'epoca fino a pochi mesi prima rececconi abitava in un appartamento sulla cassia accanto a quello di tabocchini poi a ottobre rececconi era andato a stabilirsi in un residence di proprietà del presidente laziale lenzini a 150 metri di distanza rececconi era sempre in giro in via nitti per i suoi acquisti lì aveva un sacco di amici invece ghedin dirà che né lui né rececconi erano particolari amici del gioielliere anzi in quella generia ci sono entrati per la prima volta quella sera luciano rececconi lasciava il figlio stefano di due anni e la moglie cesarina in attesa della seconda figlia francesca le sue spoglie furono tumulate nel cimitero del suo paesino nell'interland milanese nerviano figlio di un muratore luciano portava quel curioso doppio cognome re cecconi per via di un regalo di vittorio emanuele secondo che un giorno in visita nelle campagne lombarde apprezzando nella buona cucina e l'accoglienza aveva voluto omaggiare gli abitanti del luogo aggiungendo a tutti i cognomi re i david divennero re david i cecconi re cecconi e così via un destino di nobiltà interrotto in maniera assurda a 28 anni in maniera assurda a 28 anni